Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti Coronavirus, scherziamoci su. L'europarlamentare Fulvio Martuscello, che è anche capo provvisorio di Forza Italia in Irpinia, ha presentato un'interrogazione urgente al commissario della concorrenza per sapere se è legittima la decisione del governo di imporre SIC un prezzo stabilito sotto il prezzo di costo per le mascherine. La scelta di imporre 0,50 sta facendo sì che tanti non possano più venderle perché sarebbero costretti a venderle sotto costo. Ora, al di là della prosa limpida come più delle chiare, fresche e dolci acque del grande Francesco, al Martuscello andrebbero fatte queste tre domande. Uno, è proprio certo che le mascherine imposte al prezzo di 0,50 euro costino al farmacista un centesimo in più? Due, perché non ha interrogato il commissario della concorrenza quando tante, quindi non tutti i farmacisti hanno venduto le mascherine a prezzo d'oro zecchino? Tre, è davvero convinto che tanti farmacisti stiano per finire in povertà, ma ci faccia il piacere.